25 aprile, 30 aprile 2020, il primo periodo di coronavirus, passeggiando per il Corso Moncaglieri alle 8 del mattino in un momento che dovrebbe essere l'ora di punta. Eccomi qui con la mascherina, il Corso Moncaglieri, un procinto alla coda, davanti al supermercato per la spesa. E così, anziché ritrovarci come un programma, da prima a Hong Kong, a Taipei e poi a giocarte e giocarte per dei concerti, che era la nostra raccolta di suoni, ci troviamo a fare il sound watching a Torino. Non è la prima volta, perché è stato fatto già tante altre volte, insieme anche a tanti nostri collaboratori e compositori. Ma quello era un gioco della nostra vita frenetica, attenzione verso il rispetto della natura, il rispetto degli altri. Adesso invece non sono watching il surreale, il sintetato opposto. Il silenzio è quasi dominante, le macchine sono poche, l'eccezione è quella dell'autoambunanza, che Quell'arme ci inonda costantemente, perché le molinette sono dall'altra parte del fuoco. Ma a parte questo, il suono dominante, c'è il silenzio, e il canto degli uccelli nei giardini, che ci sono qua intorno. Grazie. Prendete a aprire, bioggia. Ciò che cerchiamo adesso ce l'abbiamo, ma per una strada molto diversa. Ci è arrivata però altri percorsi. Abbastanza scritto, diciamo, in burocratese. Grazie. 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 Grazie.